La chiamata diretta dei docenti e ambiti territoriali avranno vita breve. Proprio in questi giorni, infatti, la Commissione Cultura del Senato sta esaminando il disegno di legge 637 proposto dalla senatrice 5 Stelle Bianca Laura Granato, che prevede la cancellazione di alcuni aspetti molto significativi della legge 107. In questi giorni già sono stati auditi i sindacati e alcune associazioni professionali, venerdì scadono i termini per presentare gli emendamenti. La prossima settimana, quindi, la Commissione riprenderà i lavori e arriverà alla stesura del testo definitivo della proposta. A quel punto il provvedimento passerà all'Aula del Senato, che lo dovrebbe approvare. Ma la procedura non è ancora conclusa, in quanto si aspetta anche il voto della Camera. A meno che, nel frattempo, il Governo non decida di introdurre i contenuti di questo disegno di legge all'interno di un articolo della legge di bilancio. In quel modo i tempi si potrebbero abbreviare di molto. Quello che è certo, comunque, è che la riforma della chiamata diretta rischia di essere ricordata come una delle riforme di più breve durata dell'intera storia della scuola italiana.